Aumentano gli episodi di vandalismo a Palermo, nel Mirino finiscono sempre più spesso gli istituti scolastici o le auto, soprattutto quelle destinate al mercato illegale della ricettazione dei pezzi di ricambio. Vetri sfondati a due mezzi in via Michele Miraglia, con furti dentro le vetture, con una valigia e delle buste portate via dai ladri. Questa volta però c'è stato anche un arresto, un giovane fermato ancora con l'aria furtiva e le mani sanguinanti per via dei tagli provocati dal vetro. Terzo furto in una settimana alla scuola Domenico Scinà a Palermo, questa volta il ladro che è stato ripreso dalle telecamere ha anche tentato di sabotare l'allarme per poter agire con tranquillità e completare la razzia dell'impianto di amplificazione delle casse e degli strumenti musicali. Secondo il dirigente scolastico Maria Gabriella Martorana sembrano colpi su commissione con la conoscenza del luogo e delle cose da rubare, attrezzatura che gli alunni stanno utilizzando per preparare ormai da mesi alcuni concerti che i furti rischiano di comprometterne la buona riuscita. Rubati due altoparlanti, mentre i ladri non sono riusciti a portare via la batteria. Nei giorni scorsi rubati altri strumenti, l'impianto di amplificazione. Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e che hanno ripreso il ladro in azione. E sempre a Palermo le volanti della polizia impegnate nell'azione di controllo del territorio hanno sventato un furto in un altro istituto scolastico paritario e ne hanno anche arrestato l'autore che dal locale seminterrato aveva sottratto diversi oggetti edili nascosti all'interno di un sacchetto. Si tratta dell'istituto bilingue Thomas More di via Pacinotti nel quartiere Malaspina Palagonia di Palermo che già in passato era stato preso di mira dai ladri in parecchie occasioni.